L'imitazione del Kebabaro parte 2 Ero dentro del Kebabaro Ero dentro del Kebabaro Pieno di stranieri no? Romeni, marocchini Per spiegare al senegallese La carta che dopo I nove Il decimo era gratis Non capiva quella cosa fai io Cosa mangio, quanto mangio E quello è il Kebab Uno, due, tre, quattro paga 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 Questo no, mangio Poi è arrivato il rumeno Patata mangia qui Panino porta via Quando toccava a me Mi ha preso a me per marocchino Ciao Mangia qua Porta via manch qua E io ho detto panino porta via Per non fargli fare brutto a più Non sapendo che ero italiano Mi ha risposto anche io Italo rumeno Sei capito? E' a piangere